Mi chiamo Tiziana Conte, sono nata e cresciuta in Ticino, sono organizzatrice culturale e giornalista freelance. Io credo di essere una progettista, di adorare i progetti culturali, quello che mi stimola di più è pensare alla relazione sia con un artista sia col pubblico che rimane sempre centrale nella mia storia professionale. Credo che il pubblico ticinese abbia voglia e desiderio di conoscere la danza, anche se non essendo programmata puntualmente nei maggiori teatri, a parte alcune eccezioni, abbia bisogno di conoscerla meglio. Quindi, senza altro, progetti di mediazione come è la festa danzante, che va incontro al pubblico, sono non necessari di più. Quello che mi motiva a fare questo lavoro è anche un desiderio di continua militanza a favore della cultura e in difesa anche di un'artisticità nella danza e non solo, che è necessaria a questo tempo contemporaneo e che sia assolutamente per tutti. Grazie. 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 Grazie.